Oltre 10.000 persone hanno partecipato da Via dei Mille e Via Carducci al concerto che si è tenuto venerdì scorso sulle terrazze del Pan, protagonisti i 99 posse e i Motel Connection, in una sorta di evento sfida a distanza ravvicinata. La band napoletana e quella torinese hanno interpretato pezzi del loro repertorio storico e recente, da Curre Curre Guagliò a Dreamer, da Tarantelle Pecampà a Shadows and Fire. La serata si è conclusa intorno a mezzanotte, quando i due gruppi hanno cantato assieme l'irruente e rigurgito antifascista del 1993. La scelta degli artisti, spiega l'assessora alla cultura di Nocera, è coerente con la vocazione del Pan ad essere un punto di riferimento per i linguaggi trasversali della contemporaneità. Il concerto è stato realizzato senza spese per il Comune di Napoli grazie a una collaborazione operativa con l'azienda Red Bull.